Grazie Presidente, assolutamente non posso ritenermi soddisfatta della risposta perché evidentemente stiamo parlando di diritti soggettivi irrinunciabili delle persone e la razza della norma dovrebbe essere quella di andare incontro alle persone e questo diritto di scegliere non può essere pregiudicato dall'inerzia dell'amministrazione, cioè andare a raccogliere presso il domicilio del disponente, quindi della persona che vuole effettuare le sue indicazioni sul fine vita dovrebbe essere implicito nella norma e per questo che noi chiediamo una circolare interpretativa perché serve colmare una lacuna che di fatto però è frutto e resta nello spirito della norma, cioè la norma vuole che le persone esprimano le proprie volontà, la norma è finalizzata a questo, è il fine ontologico di questa normativa specifica, per cui pregiudicare il diritto per l'inerzia dell'amministrazione è assolutamente illegittimo e non si addice a uno Stato laico che voglia andare incontro alle persone. Detto questo c'è un problema evidente su questa normativa che è stato rappresentato anche dall'Associazione Luca Coscioni che ringrazio. Soltanto lo 0,4% delle persone, in particolare 185.000 italiani e solo 185.000 hanno redatto le loro dichiarazioni di fine vita e questo è evidentemente un limite della norma e un limite del fatto che non ci sia stata un'adeguata campagna informativa su quello che sono i diritti delle persone rispetto a questa normativa. Ma non solo, non ci risulta che sia stata fatta la relazione al Parlamento sulla redazione di queste disposizioni anticipate di trattamento che avrebbe dovuto essere fatta dal Governo entro il 30 di aprile ai sensi dell'articolo 4 di questa normativa, anzi scusi, articolo 8. Mentre invece risulta altresì una lacuna sul fatto che non sia stata data attuazione alla parte di competenza delle Regioni. In questo senso il Governo potrebbe emanare una comunicazione al Ministero competente ricordando alle Regioni che c'è una normativa da attuare e da implementare all'interno del nostro Stato. Evidentemente questa normativa non può rimanere lettera morta ma serve un comportamento proattivo dello Stato affinché si possa garantire il diritto all'autodeterminazione delle persone e questo lo si può fare mantenendo l'attenzione altissima su un tema tanto delicato e rendendo il più semplice possibile l'attuazione di tutti i comportamenti che sono previsti da questa normativa specifica. Lo dico questo perché effettivamente anche da cittadina non ho avuto quel senso di informazione, consapevolezza rispetto alle conseguenze pratiche di questa normativa. È sicuramente un discorso molto complesso e si chiede che le persone facciano proprio un atto di riflessione serio e molto delicato su quello che è il loro fine vita. Però credo che sia giusto rendere una corretta informazione e soprattutto permettere alle persone di poter fare questo atto così nobile con la semplicità maggiore possibile. Grazie.